ma per l'amor di dio ma probabilmente è anche di categoria superiore l'anno scorso siamo scesi, non so perché siamo scesi ma si vede che è stata una manovra perché se magari non c'è un insolito per fare golo sopra però da lì a fare proprio c'è nel senso che sono dai c'è in trariate vediamo com'è questo e l'argentino? l'argentino è lì Valentino dai ragazzi chi è che ho scelto? non c'è manco Cavassa ancora ma c'è anche il capitano vedi che c'ha la fascia audace grazie 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 Grazie. 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 33,000. Grazie. 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 Lo sto neanche dire se giocano meglio adesso o giocavano meglio prima? Come gioco prima, giocavano bene. Ti dico con l'altro ordinatore. Sì, 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 ma il gioco non mi è mai mancato. Gioca in maniera diversa. Sì, sì, sì. Manca la gritta. Eh sì. La quale non mi ha composa con la rabbia? Odesson si arrabbia, ma quella non è grinta. è vero, è diverso sono un po' disordinario Marci casati fai finta di essere Simone e entra tu bordo due caviglie che fa? non dargliela subito mi sembra lento come dice non so se ti può interessare ma a Torino che abbiamo 2 a 0 l'ho detto amici perché non ci siamo andati noi sai che si è a dire dire la partita? quando? coppa dalla partita perlomeno 3 a 3 si 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 sta la televisione abbiamo regalato dei biglietti sono andati bravo viva l'allianza si grazie a tutti 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 Per cui ti ho visto il profilo? Fabrizio? Sì Ma L'orto che era? Sì, erano a mangiare all'osteria della Cicci Sì Ma si si sta Mi ha detto che si sta bene Sì Rispetto a qualche anno fa Hanno aumentato ancora L'offerta L'onore c'erano 3 minuti Adesso Adesso mi sono E' un'altra volta E' un'altra volta Era meglio piazzato lui Ed era fuori Ed era fuori Adesso è un'esagerazione E' un bello scuola Anche Greventi non è piccolino No Grazie a vous Grazie 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 a tutti. 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 si vede che è diverso l'anno scorso ha giocato l'eccellenza in Sardegna ha un altro passo l'abbiamo preso facciamo allenare questa mattina sono una poliziana così l'ha messa là in mezzo tra il portiere e la cosa lui è arrivato di piede manco di testa sono partiti troppo presto entra Grifini grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.